Libro totale, ovviamente per gli amanti del settore, un grande maestro e un grande allievo, ovvero Noam Chomsky, colui che ha teorizzato la grammatica generativa, e Andrea Moro, un sovvertitore degli studi su linguaggio e cervello, si sfidano a colpi di interrogativi pregnanti, prescindibili e fondamentali su come si apprende una lingua da bambini, sulla possibilità di esistenza di grammatiche e linguaggi impossibili, nuovi, altri, sul contributo della neurobiologia alla strutturazione, evoluzione e stratificazione del linguaggio umano, un viaggio che porterà il lettore ai confini del linguaggio compreso quello dell'intelligenza artificiale e in fondo un magnifico volume per comprendere le radici del nostro essere, del nostro dire e comunicare, nonché essere anche una comunità di parole.